L'equiparazione di nazismo e comunismo è di una gravità inaudita, perché il comunismo ha liberato l'Europa dai fascisti e dai nazisti e ha costruito la costituzione di questo paese, però non voglio parlare di questo, voglio parlare d'altro. Noi questa settimana facciamo in tutte le piazze d'Italia una grande campagna contro quello che non sta facendo questo governo, saremo in tutte le piazze a dire che in Italia è ora di dire che bisogna aumentare i salari, che bisogna aumentare le pensioni, non aumentare più l'età pensionabile, permettere alle donne che hanno svolto lavoro di cura nell'arco della vita di andare in pensione anni di meno a seconda di quanto lavoro di cura hanno svolto, che ci vuole la riduzione dell'orario a parità di salario e che ci vuole il salario minimo, perché in questo paese l'impoverimento sta divestando devastante.